Ave Maria, piena di grazia. Mi piace chiamarti per nome e dirti Ave. Ai tuoi tempi la gente si salutava così. E ti dico anche, piena di grazia. Sai, sembra un cognome. Maria, piena di grazia, vuol dire che Dio ti ha fatto tutta buona, immacolata, eccetera, senza neanche un piccolissimo peccato. Invece, io non sono sempre buono, purtroppo. Ma è bello sapere che tu avevi un cuore tutto puro. E il Padre nostro ti vuole tanto bene che ti ha fatto mamma del suo figlio Gesù. Bisognerà davvero che per esserti amico io di peccati ne faccio più pochi possibile. Ci proverò, Maria. E per questo ti dirò spesso Ave Maria piena di grazia. Il Signore è con te. Tu abitavi in un bel paesino di Palestina e certo ti piacevano i fiori, i passeri, i bimbi e venivano le tue amiche a trovarti. Ma io so che anche Dio veniva a farti visita. Anzi, abitava addirittura nel tuo cuore, perché eri tutta buona e tu con Lui stavi meglio che con tutti. Vorrei ricordare di più che io sono un cristiano e anche in me abita Dio come a casa tua. A me piace stare con mamma e papà, con gli amici e anche con il mio cane quando voglia di giocare. Ma un po' più gentile con il buon Dio che sta in me potrei esserlo. Per favore, Maria, ricordami che Lui è sempre con me. Ogni volta che ti dirò il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Io so che di donne famose ce ne sono tante. Fanno le regine, le attrici del cinema e qualcuna fa anche il tenente poliziotto. Tu, Maria, non so se ai tuoi tempi eri famosa. Forse il capo del governo non ti conosceva. Eppure Dio è venuto da te. Perciò sei diventata la più famosa di tutte. Non eri ricca, tu non avevi tanti servi, ma ti fidavi di Dio e gli volevi così bene che Lui ti ha preferita tutte. E adesso anche tu sei regina, ma comandi solo cose buone e le chiedi a Gesù che non ti dice mai di no. Così è accaduto a Cana, quando hai detto a Gesù che era finito il vino e Lui ha fatto diventare vino l'acqua per il pranzo di nozze. L'ha fatto per te. Nessuna donna è importante come te. Io te lo dico convinto. Tu sei benedetta tra le donne. E' benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Abbiamo fatto molta festa, una volta per il battesimo di un bimbo nato da poco. C'erano dolci, c'erano amici e nessuno ci sgridava. Quando un bambino nuovo arriva nel mondo, è festa. Ma che dono per tutti quando il tuo Gesù è nato. E' Natale, la festa dei regali. Piangeva anche Lui quando aveva fame, vero? Era allegro, sano e buonissimo. Chissà quante volte le tue amiche ti hanno detto, com'è bello il tuo bambino, Maria. Tu non rispondevi, ma pensavi, piena di gioia, che era figlio del Dio di tutti. Se l'avessero saputo, anche loro ti avrebbero detto come me. E' benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Io so che ci sono Santa Rita e Santa Teresina e Santa Maria Goretti. Di sante ce ne sono molte, ma tu non sei solo una santa così. A te, proprio il Dio, che ha fatto tutto il mondo, ha detto tante volte per bocca di Gesù, ciao mamma. Mamma, posso fare questo? Sei una mamma importante tu. Però, chissà quando sei rimasta sbalordita, quando l'angelo è venuto a dirti che Dio voleva farti mamma del suo figlio. Mi piace pensare che anche Dio ha voluto una mamma, perché così Lui e io ci assomigliamo. Allora dico con gioia, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Quando le scarpe slacciate, oppure la faccia sporca, la mamma mi dice, vieni qui e mi metti in ordine. Tu, Maria piena di grazia, sei anche la nostra mamma, perché Gesù è nostro fratello e così tu ci guardi per vedere se in noi va tutto bene. Ma io, sai mamma Maria, ho capito una cosa. Tu vedi nel mio cuore anche quello che neppure mia mamma vede e a te dispiace quando ti accorgi che sono cattivo. E allora dice Gesù, aiuta questi piccoli essere buoni. Meno male che ci pensi tu. Fallo sempre, perché non è facile essere buoni. Te lo chiedo proprio di cuore. Prega per noi peccatori. Adesso. Sai mamma Maria, io ho già fatto i capricci al mattino prima di alzarmi, alla sera prima di dormire e anche a mezzogiorno e a merenda. Se voglio posso essere buono sempre, ma posso anche essere sempre cattivo. È meglio che tu dica a Gesù di aiutarmi in tutti i momenti, sempre, anche quando sarò grande, fino alla fine della vita. Adesso vuol dire oggi, domani, dopo domani, tra un anno, quando sarò grande. Adesso vuol dire sempre. Io cercherò di ricordarlo e nei momenti difficili, ti dirò piano piano. Maria, mamma, aiutami, aiutami adesso. È nell'ora della nostra morte. Che strano. Tutti sanno quando sono nati e nessuno sa quando morirà. Uno muore in un incidente stradale e un altro sul lavoro e un altro ancora in ospedale. Fa paura morire? Bah, i grandi dicono di sì. E poi morire vuol dire che si va da Gesù a dire se siamo stati buoni. Bisogna essere pronti a rispondergli bene. Tu, Maria, mamma, con tanto dolore hai visto quando Gesù è morto sulla croce. Tu hai sentito quando ha detto al criminale crocifisso vicino a lui che lo perdonava e lo aspettava in paradiso. Allora si capisce che quando uno di noi muore, tu sei vicina vicina per aiutarlo ad andare in casa di Gesù. E io te lo chiederò sempre. È nell'ora della nostra morte. Amen. E io, mamma, con noi.